allevatori in erba ciao a tutti oggi un video direttamente dalla bellissima francia si conclude oggi il nostro tour dei pollai europei siamo stati in germania in olanda oggi siamo in francia in francia abbiamo trovato una situazione diversa rispetto alla germania e l'olanda perché in francia c'è un mercato molto molto importante per i polli ornamentali e ci sono un sacco di farm francese scusate mio francese sono delle fattorie dove si possono andare acquistare i polli ornamentali oggi siamo in un parco animali e quindi facciamo un po il giro insieme vi facciamo vedere che cosa potete trovare se venite a visitare la francia dal punto di vista vicolo allora io ho cominciato il mio giro allora qui è veramente ma veramente grande adesso sto vedendo il box degli animali che sono in vendita sostanzialmente e qui anche penso che ce ne siano e ci sono una grande quantità di animali ci sono galline avicoli poi ci sono pavoni ci sono conigli ci sono tanti colombi tantissimi animali tantissima biodiversità un ambiente che vedo molto pulito bello continuiamo il giro ma come a grande soddisfazione vedo che allora qui ci sono i gruppi riproduttori mi sono gli animali in vendita sono sotto tettoia e mentre i gruppi riproduttori sono qui nella parte centrale dell'allavamento e con mia grande soddisfazione vedo che ci sono tutti i pollai in legno allora a vedere che un allavamento così grande così importante con così tanti animali riescono a gestire tutto con i pollai in legno mi fa capire che ecco chi è detrattore dei pollai in legno in realtà eventualmente magari un po potrebbe anche sbagliarsi e poi hanno questo riparo per gli animali per la pioggia e poi hanno il loro spazio e tutto è coperto dalla rete antipassero e gli animali sono accasati in questo modo qua insomma vedo che se si sono organizzati così eventualmente ce la possiamo fare anche noi allora sto abbandonando la zona dei riproduttori avicoli e mi sto imbattendo nella zona anatidi ma qui ce n'è anche bene nel fondo andiamo un po a vedere allora la zona anatidi in realtà prosegue su quel lato lì e continua la zona riproduttori avicoli quindi i riproduttori avicoli finiscono la in fondo e sono cominciati praticamente la quindi sono un bel po di razze allora al momento sono arrivato in fondo all'allevamento qui abbiamo gli anatidi cignoidi qui sempre gruppi riproduttori c'erano tantissime razze o non so tradurre bene il francese all'italiano ci sono delle razze che non ho mai sentito nominare in vita mia poi vi farò scorrere le foto delle razze che abbiamo visto non di tutte perché sono veramente veramente tantissime così eventualmente poi nei commenti andiamo a capire che razze sono come eventualmente si traducono in italiano o se le abbiamo anche noi in italia allora siamo arrivati in fondo a questo bellissimo allevamento avete visto tantissimi animali ho già quasi un po il ma di testa tanti animali che non conoscevo galline ve l'ho appena detto ma anatidi cignoidi cioè ho visto animali veramente veramente belli particolari quindi insomma aiutatemi a dare loro un nome perché non conosco la razza non c'è non è indicato dappertutto la razza degli animali che sono dentro perché è da quello che abbiamo capito ormai qui la stagione per loro è finita stanno solo mantenendo l'allevamento non hanno uova hanno pochi animali in vendita quindi stanno diciamo stanno solo mantenendo gli animali quindi non sono tirati a lucido però comunque veramente tanti tanti bellissimi animali quindi continuiamo perché ve ne faccio vedere ancora degli altri allora il nostro tour si sta esaurendo ragazzi veramente mi gira la testa vi ho fatto vedere solo un po degli animali che ci sono qua non mi basta la batteria purtroppo per farvi vedere tutto e mi ci vorrebbero due giorni veramente allora il nostro giro è finito e dal parco animali qui in francia è tutto allora niente riepiloghiamo tantissimi animali in francia ci sono delle farm molto molto interessanti dove vendono gli animali spediscono anche animali quindi siamo venuti anche un po a studiare il loro servizio la francia è un ottimo posto dove si possono venire in primavera a comprare degli ottimi soggetti noi intanto vi salutiamo ci rivediamo ad un prossimo video che vi parlerà sicuramente di avicoltura in genere io ragazzi vi saluto ci rivediamo in italia ciao ragazzi a presto ciao 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 ciao